LUPO ITALIANO LUPO ITALIANO LUPO ITALIANO Il periodo del corteggiamento va dai primi di gennaio fino ai primi di marzo, inclusi, poi troviamo il periodo dell'accoppiamento che arriva fino a fine marzo, quindi la seconda metà di marzo, con conseguente gestazione in cui la lupa partorirà dai due agli otto cuccioli, questo dipende in base all'età della lupa. Il lupo vive in clan composti da una coppia alfa, una coppia beta e gli omega. La coppia alfa sono quelli che dirigono il gruppo, quindi i capi. Poi troviamo la cosiddetta coppia composta dai vice capo, da uno o due vice capo, la cosiddetta coppia beta, e gli omega invece è la coppia costituita dai gregari di basso-medio rango. Tutto questo, diciamo, il livello, l'ordine sociale di ogni esemplare si può notare dalla posizione della coda e delle orecchie, che sono dritte e verso l'alto sono uno dei due che compongono la coppia alfa, un maschio e una femmina. E mano a mano che scende, la situazione, diciamo, sono sempre più, sempre meno importanti, diciamo, quindi si avvicinano sempre più agli omega o ai beta. La situazione del lupo era la seguente. Dal 1968 al 1976 ci fu una decrescita di 200 esemplari, dove passò il numero dai 300 ai 100. Dal 1976 al 2000 ci fu un aumento dai 200 ai 600 esemplari, dal 2000 al 2017 ai giorni nostri dai 600 agli oltre 2000 esemplari.